Ragazzoli belli, benvenuti tutti quanti su questo nuovissimo video. Vi volevo ricordare ragazzi che se volete supportarmi nell'item shop di Fortnite potete farlo tranquillamente utilizzando il codice creatore Croatomist. Quindi basterà andare nell'item shop, cliccare su supporto in creatore e andare a digitare il mio nome, ovvero Croatomist. Accettare ragazzi e il gioco sarà fatto. Vi ricordo inoltre ragazzi che ogni qualvolta shoppiate qualsiasi skin su Fortnite avete anche la possibilità di taggarmi su Instagram e io farò in modo appunto di condividere ogni singola vostra stories. Quindi ragazzi, grazie a tutti quelli che dicevano di supportarmi, ma adesso godetevi questo fantastico video. A slurpi dici? Dobbiamo andare sul molo, quello di qua. Prendiamo le canne da pesca e ce ne andiamo. Ok. Tu segui me. Ok, ti segui, ti segui, ti segui, ti segui. Prendi la canna da pesca andiamo. Ci stanno già mirando in zattemila. Ma non c'è una canna più per me? Eh no, perché giustamente no? Vieni, che vuoi fare? Vieni, vieni. Io voglio pescare. Ah, io voglio se lo so, vieni, vieni, vieni. Andiamo, andiamo, ok, ma i fungretti quali possiamo mangiare, sì? Scigliati sì. Tu pesca, io vado a prendere, devo avere una canna da pesca. Anche se questi funghi qua io li avrei lasciati. Sai perché? No, perché non dobbiamo rimanere qua noi. Ah, non dobbiamo rimanere qua? No, la... Quindi tu puoi finire con zero kill? Sì, in endgame, dobbiamo build fightare alla fine. Ah, ok, solo build fightare, tutto... Non si può fare più quella challenge qua. Non si può fare più quella challenge qua. Se lo sparamento perdi. Ah, ok. Ah, vabbè, ci sta alla fine. Quindi solo pesci bisogna fare. E le altre cose... Niente, le armine devi buttare. La sfiga che abbiamo avuto ora è che la safe qua da noi, quindi... Eh, giustamente. Vabbè, farmiamo, quindi. Giusto? Io farmo il pesco. What? Ok. Non riservo assolutamente a niente. Vabbè, ragazzi. Solo armi. Allora. Dai, dammi i pesciolini. Eh, giustamente! Ma sto gioco lo fa apposta, eh? Sia, comunque, non trovo un... Ho trovato a ogila, madonna... Tutto ho trovato... Io ho appena trovato i tre pesci di fila. Eh, anzicca di rendo... Passicciotto. No, no, perché... No! Un altro buff blu! Non c'è chi, no, basta! Io ho trovato tre pesci... È finita. Io c'ho mille pesci, c'ho. Tattico blu! Voglio sentire la tua voce. Soppertiglarmi, soppertiglarmi. Cosa, cosa? Io avevo mille... No, in una pozzanghe l'ho trovato. Famas, cecchino e tac. È giusta, beh. Sto armando i materiali, quindi? Io sto... No, stavo pescando, ho pescato dove non ci siano pozzanghe. Farò cosa? Comincio a farmare. Sì, sto farmando. Sì, sto farmando. Ok, ok. Senza parole. C'è la safe, c'è la safe. Vedete come mi pesca? Eh sì. Vai, corri! Corri, che vuoi da me se mi tiri? C'è, guarda là. Hittata dalla safe. Ah, sì, 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 sì. Corri, 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 corri. Ah, è girato verso destra. Allora. Dobbiamo farmare, ragazzi. Dobbiamo farmare, che se no non ce la facciamo. Gente di fronte a me, che faccio? 3-7 online. Non devi fare nulla, devi andare. Ok, zi padrona. Qua ci sta un medikit, che faccio? Mi faccio il pesce e mi tengo il medikit. No. E che faccio? Quanti pesci hai? Uno? Uno. Uno. Fai il medikit e mi dai il pesce a me. Ah, ok. Viola? No, infatti, è che hai fatto che fare qua? Eh, sì. Sì, sì, volevo prendere quell'air drop. No, 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 per favore. Ti ho lasciato il pesciolino. Ho dovuto vedere. Ah, ma è meglio non andare senza fuori mia. Eh, ecco perché sono tornato indietro. Vado a bella stacana da pesca, mi sento proprio confident. È giusto a me! Cioè, io stavo avanti, mi ha attirato. Avete visto? Bullizzato. Gentili là. Sì, magari il prossimo lo peschi. Ah, mi vado a fare il falò qua. Ok, signorina? Sì. Ok. Non so se ha senso... Oh, nice, nice. Non so se ha senso. Cosa? Qui che città? Eh, farsi il falò. Attireremmo attenzione o sbaglio? No, 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 dobbiamo farcelo. Facciamocelo insieme, aspetta. Facciamo insieme? Eh, per forza, manca anche me. Attivano. Ok. Siamo morti. No, scherzo, non lo so se siamo morti. No, più che altro se... Cioè, viene fuori una cosa figa. Sperando che non ci... Cioè, sperando che non... Non abbiamo le materiali, non so quanti, ma sai tu, ma... Io ho... 1.000. Totale. Sì, 1.000 totale. Madonna, non è nulla. Hai detto che farmavi tu. Eh, ma... Un altro po' lo scellino qua. Ok, posso portarlo. Faccio che di formare di più perché non ti passa. Eh sì. Pesco l'ultimo pesce e poi... C'ho due medikit. Tanto non ci serviranno, però. Perché? Perché tanto c'ho letteralmente 10 pesci gialli e... E sei pesci viola. Non posso morire, impossibile. Io sono indeciso se lasciare il pesciolino e prendermi le bende. No, no, no. Io c'ho nove pesci. Già, cioè, arancioni. Pesciolino maggiore di kit. Non servono nulla alle quale letta. Pesciolini, solo pesciolini. Posso far male qui? Mattone e metallo. Eh sì, sta arrivando. Allora, ragazzi, tocca farmare tantissimo. Siamo per fare questa cosa? Non servono solamente i pesci, ma servono tantissimi materiali. Perché poi dobbiamo tenere l'iground. Quello è fatto. Ok, ok. Io c'ho adesso mille di legno. Scusami, stai iniettando, insomma. Basta che farmi mattona. Sì, sto farmando. Annore buttato. C'ho mille di legno. 300, 250 di mazza. E... 300 di ferro. Poco a poco, poco. Sono un po' pochi. Sì. Adesso. Inoltre abbiamo la safe sopra, quindi adesso... Io devo salire. Arriveranno. E buildare in AIG. E non lo dobbiamo lasciare più in nessun motivo. Ma questo qua... Io sto farmando le fondamenta. Forse lo... Forse le sto sbagliando. Non posso la farci cadere. Abbiamo un'ultima S, quindi sono due team rimanenti. Ok. Ah, posso prendere AIG già da adesso, ma voglio vedere dove finisce la prossima 50-50. Eh sì, aspettiamo. Tanto nel frattempo continuiamo a farmare. Belli, sappiamo. La Sineidano. Quindi c'è i mille mille. Mille, mille sei quasi, sì. Ok. Eh, io sto farmando appena un po' osso. Dopo non ci serve a nulla, quindi. No. Ok, io like. C'è gente da me. Mi sa. Vanno a cadere. Sto arrivando da me. Sì. Sì, sali, sali, sali. Sto arrivando da te, eh. Perché c'è gente. Il fatto che abbiano le RPG viola mi triggera. Che potrebbe letteralmente rovinarmi tutto questa cosa. Stanno salendo anche loro. Io mi metterai tipo qua. No, no, io sono like, non lo lascio. Io like non lo lascio. Se fanno cadere due c'è di giuro a forza, ok? Sì. Stanno fetando comunque. Ok, l'hanno eliminato. Quindi sono... Uh, se c'è quello con l'RPG è perfetto. È morto quello con l'RPG. Se non lo prende lui è perfetto. L'ha preso, minchia, è oro. No, non ti mutare, ho ragione. Ok. Uno è lì e uno è lì. Vabbè, tanto noi dobbiamo vincere di safe, no? Io ho 1400 materiali in totale. Sono amici questi. Sono amici, dici? Sì. Vabbè, in che senso sono amici? Siamo 2v2. Uh-huh. Oh, capperini. Dai, ti prego, fateci vincere. Fateci vincere. Ok. Sentiamo così, stanno cindigere a forza. Sì, stanno... Stanno zappando. Ecco. Fatti un pesce. Anzi, no, 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 non serve. No, non serve. Sono a 69. Devo crancare, io? Vai, vai. Stanno salendo, comunque. Lo so. Cercano di rompere tutto, mi sa. Ti prego, fai che non sia quello che penso. Ora ho forzato sotto. Ma tieni laica. No, 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 non devi perdere, ho già. Ho cancato i naica apposta, io. Io sono andato a rinforzare un po' sotto. Più che altro ho paura. C'è questo che sta rompendo letteralmente. Vado io, vado io, fermo, fermo. Tranquillo. Vabbè, posso stare anche a sotto, no? No, 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 no. Tranquillo, non ti raccomare, non scendere. Io sto rafforzando giù, eh. Andano a pezzo, ci facciano cadere ormai, eh. Ah, ma è vinto, è vinto, è vinto, è vinto. Non possono salire da me. È impossibile. È vinto, GG. Stanno qua, eh. Sì, sì, ma è vinto, è vinto. Non possono fare niente, non posso morire. Eh, però se muoio io c'hanno mille pesci. Ma quanti pesci avevi? Eh, troppi. Eh, no, non dovevi scendere. Eh, lo so. Allora, GG. Quanti pesci erano? Devi dirmi quanti erano. Erano due medikit? Eh, sì, ho felato io qua. Più che altro volevo scendere a... Vabbè, forse ce la fai, eh. Più che altro sotto è tutto rotto. Cioè, capisci, loro che hanno fatto? No, 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 no. Ho raffrazzato io. Sei sicura? Sì. Vediamo. Vediamo. Può darsi pure che sbagliano, eh. Non lo puoi sapere. Vediamo. Ok, ragazzi, GG. Ragazzi, con l'altro pre-in-chat. 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 Vi prego. Vi prego. Ti prego. No, ma vinciamo noi. Mi sono confidente che vinciamo noi. Ho troppi pesci. Ne ho troppi, ne ho troppi, ne ho troppi. No, vinciamo, vinciamo. Ne ho troppi. Ma pure loro ce ne avevano. Ne ho più io. Sono sicura che ne avevo più di vita. Ti prego, ti prego. Sì, io c'avevo tipo 5 pesci. 5 pesci, 2 medikit. Ti prego. Boing, 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 boing. No, 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 no. A te, sembrava tutto finito, invece. Sì, sì, confident. È nostra. Sì, 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 8, 8 pesci, 8 pesci. Così almeno è più hard. Ma tu, ragazzi, c'ho il cuore che fa badabunta, ciao. Quanti ne hai, quanti ne hai dati, c'ho? Sei perdo per colpato di uno di disso. No, 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 ti prego. Oh, quanta vita c'aveva quel lordo. Ce ne avevi per forza più tu. Il problema è che lui c'aveva il medikit. Dai. Dai. Sì! 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 È vaffanbrodo! È vaffanbrodo! Sì! Ragazzi, c'ho il cuore che è buono, lo so. Ti dissavo se perdevo, ti dissavo. Guarda, meno male che ne ho fitto.